cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo domenica 10 marzo con il maltempo a causa di un'ennesima perturbazione in transito vediamo insieme il dettaglio sul veneto la grafica ci mostra una spiccata instabilità il cielo sarà coperto con precipitazioni per buona parte della giornata si tratterà di fenomeni anche consistenti specie su zone montane pedemontane sulla pianura più settentrionale con frequenti rovesci ed occasionali temporali dalla tarda serata probabile miglioramento le temperature saranno stazionarie minime tra 4 e 7 gradi massime tra 9 e 12 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui piogge dappertutto abbondanti su pianura e costa intense sulla zona montana quota neve attorno ai 1100 1300 metri temperature minime tra 7 e 9 gradi massime sugli 11 12 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo al trentino alto adige non mancheranno rovesci ovunque anche intensi nelle ore centrali della giornata nevose mediamente oltre gli 800 millimetri temperature minime sui 5 gradi massime intorno ai 10 dal meteo è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori maggiore Grazie a tutti.